Il Pasco di Colomba, anno 2018, con l'impastrice N50 della FAMAC, uno spettacolo per gli occhi, per l'udito, maglia glutinica, eccellente, siamo nella fase del plurro, adesso aggiungeremo il plurro. In mezz'ora di lavorazione in prima velocità, questo è il risultato della colomba artigianale, per l'impastrice N50 della FAMAC. Grazie a tutti. Grazie a tutti.